forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo non si preoccupi papà pig, non sarà poi così grave perbacco, papà pig ha tenuto questo libro per ben dieci anni papà distrattone scusi signora coniglio non ha importanza, adesso puoi scegliere un altro libro signora coniglio, Giorgio e io possiamo prendere in prestito un libro per favore certo, il settore per i bambini è a vostra disposizione guarda, il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini ciao Peppa Pig ciao ciao Danny io ho preso in prestito un libro sul gioco del calcio buongiorno Peppa buongiorno Susi io ho preso in prestito un libro sulle infermiere Giorgio ha scelto un libro sui dinosauri dinosauro guardate cosa ho trovato nuove avventure nel meraviglioso mondo del calcestruzzo uno dei libri della scimmietta rossa no basta, col libro della scimmietta rossa è noioso ma è una storia completamente diversa forse è più divertente io scommetto di no invece c'era una volta una piccola scimmia rossa che fa il bagno, si lava i denti e poi va a dormire no, che sale sul razzo spaziale e va sulla luna fa un picnic con un dinosauro nuota in fondo al mare e si arrampica su un'altissima montagna che giornata faticosa fine bellissima, leggila di nuovo possiamo prenderlo in prestito e leggerlo a casa Peppa ma veramente io avevo già scelto questo libro oppure quest'altro puoi portare a casa tre libri se desideri Peppa evviva però devi ricordarti di restituirli con puntualità sì signora coniglio e anche lei deve ricordarsi di restituire i libri con puntualità porta i nipotini al parco giochi e ora nonnino ti spiego tutti i giochi di questo bellissimo parco quello è lo scivolo ci si arrampica fin lassù e si scivola fino a terra e tutti aspettano il loro turno grazie, ma so bene come funziona uno scivolo Peppa ci giocavo anch'io quando ero piccolino e non è cambiato molto da allora davvero? c'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco certo che c'erano le altalene e c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre ma il mio gioco preferito era quello lo scivolo anche a me piace lo scivolo tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo cattivone di un Richard lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno povero Richard, non è facile essere così piccoli, vero? si affretta di giocare visto che Richard è così piccolino non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig che sciocchezza sono certo che i piccini capiranno è così, no? wiii! ma nonno, George è piccolino eppure è rimasto in fila come tutti noi mua! ah sì? anche lui è ancora piccolino e quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare oh no, Richard e George si sono impadroniti dello scivolo nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo? oh, non ti preoccupare Peppa vedrai che i piccolini si stancheranno presto oh, io però mi ammai ad aspettare anch'io! che ne dici di andare sull'altalena? ma c'è Pedro Pony sull'altalena viviamo su un pianeta qualcuno sa dirmi come si chiama la Terra proprio così, bravo sono discretamente esperto di faccende spaziali ci sono altri sette pianeti che girano intorno al nostro Sole qualcuno di voi sa dire come si chiamano? Mercurio? oh, molto bravo Edmund Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano Edmund sa tutto dello spazio sono un elefante saputello qualcuno sa di cosa sono fatti tutti questi pianeti? sì, io, sono fatti di cartone questi modelli sono fatti di cartone ma i pianeti veri invece sono fatti di roccia, di ghiaccio e di gas però la Luna è fatta di formaggio groviera no, anche la Luna è fatta di roccia e questa è una gita molto seria quindi non voglio battute e men che meno risentire eccoci arrivati siamo sulla Luna ma questa Luna è finta, vero, signor Coniglio? è per gioco? certo se ci trovassimo sulla Luna vera adesso potresti saltarmi sulla testa qualcuno mi sa dire perché potremmo saltare così in alto se fossimo sulla Luna? per la gravità! oh, proprio così, Edmund la gravità è la forza che ci fa stare con i piedi per terra ed è più debole sulla Luna così saltiamo più in alto possiamo farvi provare l'emozione di saltare sulla Luna con un piccolo aiuto della scienza sono incuriosito, signor Coniglio quale sistema usate? delle grandi imbragature elastiche tutti hanno indossato le imbragature antigravitazionali del signor Coniglio rimbalzare su una finta Luna è divertentissimo prego, dite, la Luna sorride! la Luna sorride! e qui finisce il viaggio sulla Luna prego, uscite da questa parte ma ci sono degli alberi sulla Luna? no e ci sono delle macchine sulla Luna? no guardate, sta arrivando il signor Patato il signor Patato! oh, è soltanto Peppa buongiorno a tutti buongiorno Peppa Susi pensava che tu fossi il signor Patato ma io non assomiglio per niente al signor Patato no, tu sei molto più grossa il signor Patato è un miliardo di volte più grosso di me no, non è vero perché lui è una patata e le patate sono grosse così eccolo là, il signor Patato arriva il signor Patato per favore, un bel urrà per il vostro caro vecchio amico signor Patato! urrà! vero? è una patata davvero enorme! dichiaro ufficialmente aperto il centro sportivo! bene ragazzi dobbiamo tutti fare esercizio fisico e mangiare tanta tanta frutta e verdura quale frutta e verdura dovremmo mangiare, signor Patato? mele, arance, carote, pomodori rossi e le patate no? ehm... come mai non sei piccolo come tutte le patate del mondo? ehm... perché lui non è affatto una patata come tutte le altre non vedi, ha persino le gambe sì, le patate normali non hanno né braccia né gambe è una super patata lui noi guardiamo il suo programma in tv tutte le mattine molto bravi! e ricordatevi di mandarmi i vostri disegni va bene! Peppa e i suoi amici sono all'asilo attenzione! oggi faremo un bellissimo disegno da mandare al signor Patato urrà! io disegno un ananas grosso grosso io invece disegno una carota molto bene! e tu che cosa disegni, Emily? un pisellino magnifico! e Pedro? una super patata, maestra! che bravo! e il nostro Giorgio ha disegnato uno splendido pomodoro! signore e signori vi presento Teddy Cuore d'Oro ciao ciao! è il nostro ospite speciale e questa sera dovrete fargli spazio quello è il dinosauro di George ringhia molto ma non sa dire una parola facciamo una foto per l'album di Teddy Cuore d'Oro? ragazzi, sorrisone! sorrisone! papà, vorrei tanto che Teddy Cuore d'Oro domani avesse una giornata tanto tanto emozionante perché non andiamo tutti al Polo Nord? e se invece andassimo al supermercato? sì! non credo proprio che Teddy Cuore d'Oro sia mai andato a fare la spesa finora è mattina Peppa va al supermercato con Teddy Cuore d'Oro questo negozio vende tante cose buone ci sono arance, mele, frutta esotica bello, è un posto molto interessante questa è la cassa dove si paga tutto quello che si vuole acquistare Giorgio vuole scattare una foto ho capito, Giorgio sorrisone! sorrisone! grazie, Giorgio penso che possano bastare ma dov'è finito Teddy Cuore d'Oro? Teddy Cuore d'Oro è scomparso papà, hai perso Teddy la mascotte della nostra scuola non ti preoccupare, Peppa sono sicuro che lo ritroveremo buongiorno è andato tutto bene? no, per niente papà ha perso Teddy oh no ma abbiamo un ottimo piano per ritrovarlo e come facciamo a ritrovarlo papino? come facciamo? prima di tutto stampiamo le fotografie che gli abbiamo scattato mamma Pig intanto mette a posto la spesa deliziosi sono rimasti degli spaghetti ma papà Pig ne hai già mangiate ben tre porzioni mangiare mi dà energia e ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa e se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? no papà tu devi allenarti per la corsa subito da ora avanti papino inseguici questo è troppo facile è facile correre giù per la collina ma è difficile correre su per la collina forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti è il giorno della corsa di beneficenza madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre papà Pig se papà Pig riesce a correre fino a qui quello è il supermercato e fino a qui è la stazione di servizio di mio nonno e arriva fino a questo punto qui è il castello ventoso allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola lo faccio immediatamente pronti? ai posti? via! ci sono riuscito adesso possiamo fare il picnic che papà buffone quello è soltanto un disegno certo adesso deve correre fino al vero castello ventoso pronto? al posto? via! e via! coraggio papà Pig ce la puoi fare? coraggio scuolabus ce la puoi fare? lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso adesso tutti possono godersi il picnic dell'acqua datemi dell'acqua ma che splendida calda giornata è un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi non trovate? dell'acqua ho tanta sete papà Pig ha raggiunto il supermercato uno due tre quattro cinque sei sette Rebecca ha contato fino a sette eccellente Rebecca mi scusi signora maestra sì dimmi Candy la mia mammina sa contare fino a dieci brava continuiamo dopo le sette ci sono l'otto il nove e il dieci otto nove dieci bravi molto bene è ora di ricreazione a Rebecca Coniglio Zoe Zebra Susi Pecora e Peppa piace saltare mi piace la sabbia mi piace il mare e insieme a Susi mi piace saltare mi piace cantare mi piace giocare e insieme a Zoe mi piace saltare ideona vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi qui conto io uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ha vinto Zoe urrà 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 sei qui Pedro ti va di saltare un po' insieme a noi no grazie Peppa sto giocando con l'ula hop ula hop ula hop uno due tre ula hop ula hop uno due tre quanti giri riesce a farli fare senza fermarti un milione e trentatré bravo sono un bel po' allora contiamoli in coro uno due tre quattro cinque sei sette otto mi hai fatti solo otto sì perché sono un po' stanco quelli che mancano li farò più tardi tu sai giocare con l'ula hop Emily sì ma ho un mio stile personale Emily fa girare l'ula hop con la sua proboscide buongiorno amici miei ciao Peppa Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia brum 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 giochiamo nel recinto di sabbia ok perché che problema c'è? come vedete ci sono dei lavori in corso e io sono il capo cantiere brum brum ma pensi che ci vorrà molto? beh ci vorrà il tempo che ci vuole né più né meno prima scaviamo una buca brum brum poi la riempiamo brum brum e la strada è riparata urrà! Peppa, George è il momento di andare a casa oh no George vorrebbe restare a giocare tornando a casa incontreremo il signor toro che sta lavorando arrivederci amici ciao Peppa Peppa e George sono impazienti di vedere di nuovo il signor toro comatice gu brum eccoci qua il signor toro non c'è più evidentemente avrà finito e sarà tornato a casa cavatice gu brum brum alt oh la tubatura dell'acqua si è rotta un'altra volta no Peppa questa volta si tratta di un cavo elettrico danneggiato accipicchia e come si riparano i cavi elettrici danneggiati? scavando una buca grossissima a Peppa e George piace vedere il signor toro che scava la strada a tutti piace vedere il signor toro che scava la strada stiamo portando Goldie dalla dottoressa Amster oh mi dispiace non ti senti tanto bene sei malata Goldie? non le può rispondere è un pesce oh già che sciocco sono magari sentire un po' di note della tuba potrebbe rallegrarla che buffo suono bravo è vero sto andando nel negozio di strumenti musicali per farla riparare la signora pecora la signora gatto il signor zebra e madame gazzella salgono sull'autobus buongiorno quattro biglietti per il supermercato per favore buongiorno madame gazzella stiamo portando questo pesciolino dal veterinario si sente poco bene poverino eh sì ma le sta sorridendo girano le ruote della corriera girano girano domani a sera girano le ruote della corriera fra poco arriverò supermercato ciao strumenti musicali arrivederci capolinea il medico veterinario il veterinario aiuta gli animali malati a guarire oh è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare? sì guardi anche lei Goldie mangia tutto strano a casa rifiutava il cibo forse Goldie non mangiava a casa perché era annoiata il viaggio interessante l'ha messa di buon umore evidentemente il vostro pesciolino scoppia di salute ed è molto felice è una delizia grazie dottore Samster arrivederci mamma pig Peppa e George tornano a casa in autobus anche il signor toro torna a casa con la tuba aggiustata la mia tuba è come nuova ascolta io sono brava a saltare sono brava a cantare e anche a ballare mi sono esercitata fino a tardi ieri sera anche io mi sono esercitata a vedere la televisione ieri sera ma questo non è un vero talento almeno la maestra ha detto che non lo è che posso fare allora? chi vuole mostrare per primo il suo talento ai suoi compagni? Danny Cane? io so suonare il tamburo posso suonarlo ancora più forte? no sei stato bravissimo Danny avanti Pedro Pony in che cosa hai talento? nei giacchi di prestigio dunque qui abbiamo un bicchiere d'acqua attenzione si vede attraverso e ora con una piccola magia segreta farò scomparire l'acqua per favore chiudete gli occhi prego aprite gli occhi l'acqua è scomparsa mille grazie Emily Elefante farà una suonata per flauto dolce dici Rebecca qual è il tuo talento? io so fare un verso particolare ma funziona solamente se mi metto sulla punta dei piedi è stata molto brava Rebecca sì ma io che cosa posso fare? Candy tu in che cosa hai talento? nel salto ma volevo anch'io saltare alla corda vabbè pazienza tanto posso sempre cantare e ballare signore e signori vi canterò una canzone brilla brilla stella in ciel non importa tanto posso sempre ballare temo di averlo perso oh Pedro distrattone cerca di stare più attento eccolo il tuo biglietto cerca di non perderla un'altra volta ehi sta arrivando il treno la signora coniglio è la macchinista conduce il treno tutti a bordo urrà il treno va su e giù corre e va corre e va e presto arriverà attenzione queste sono le vostre schede gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono una barca un segnale ferroviario e una galleria io vedo tanti alberi ma quelli ci sono sulla scheda? no io vedo le nuvole e le nuvole ci sono sulla scheda? no c'è nonno cane in barca sei là ragazzi? buona giornata nonno cane ma nonno cane c'è sulla scheda? ma che dici Peppa? nonno cane non c'è sulla scheda non lo vedo è al timone di una barca però e la barca sì che c'è sulla scheda urrà tutti spuntano la barca sulla scheda biglietti per favore il signor coniglio controlla i biglietti ai passeggeri penso di aver perso il mio biglietto oh ma che sfortuna il tuo biglietto è qui sul sedile Pedro ti ci hai riseduto sopra mi raccomando non perderlo di nuovo Pedro Pony il treno sale lentamente sulla collina il treno scende rapidamente dalla collina signora maestra mi scusi non mi sento bene posso sedermi davanti per favore? ma certo Pedro puoi sistemarti vicino al macchinista e da questa parte i miei pisellini ma la verdura migliore è la lattughina verde oh no la mia lattughina verde sai nonnino credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata sì pennuti come mai il tuo spaventapasseri non ha riuscito a spaventarli? perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi che cosa blatteri nonno Pig? i tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto amici? quali amici? Tom, Dick e Harrison ma no non si chiamano così nonna Pig ha delle gallinelle carine allora vi presento Giuditta, Sara e Vanessa tesorucci ciao e lui si chiama Neville Neville è una gallina maschio vero nonna? sì Peppa ma si dice galletto è proprio un cattivone ha distrutto lui tutte le mie verdure Neville non farebbe male a una mosca sai benissimo che se le mangia le mosche e ha mangiato lui la mia lattughina verde a voi non interessa la lattughina verde di nonno Pig? non è vero amorini miei? non quando c'è del magnifico gran turco da mangiare su avanti andiamo a casa Peppa, George vi piacerebbe dare il gran turco alle mie gallinelle? sì, sarà divertente nonna ecco qui gallinelle, mangiate avete anche una capanna per giocare? no Peppa, quello è il pollaio dove le galline depongono le uova le uova? però io non vedo nessun uovo qua dentro adesso no ma molto presto ce ne saranno tante è ora di andare a dormire per Peppa e George le galline avranno già deposto le uova nel pollaio, nonna Pig forse domani mattina, Peppa e come facciamo a sapere quando sarà mattina? beh, ce lo dirà Neville e ora fate la nanna notte, nonna! chi di voi vuole giocare al gran gioco dei pirati di Caio? io! è un gioco pericoloso questo? no Pedro Pony nonno cane mi ha garantito personalmente che non correrete alcun rischio state pure tranquilli ma sarà divertentissimo chi vuole giocare con me? io! questo è il nostro piano un tempo avevo un forziere d'oro che era mio di diritto ma mi è stato vilmente sgraffinato da quel maramaldo di Capitano Hog cosa? il gergo dei pirati è difficile da capire Capitano Hog ha rubato il mio tesoro tutti sanno che Capitano Hog è un terrificante pirata qualcuno di voi probabilmente lo conosce col nome di battaglia Nonno Pig ah, Nonno Pig! i partecipanti dovranno trovare il nascondiglio di Capitano Hog e riportarmi il tesoro senza essere acciuffati urrà! sono tutti contenti all'idea di giocare ai pirati buongiorno Nonno Pig stiamo per arrivare caramba amico caramba amico Nonno Pig e Polly il pappagallo fanno la guardia al tesoro del pirata avanti ciur maglia salite a bordo della tortuga e vento in poppa ma cosa dici? Non capisco correte alla nave bene ragazzi mettete i giubbotti salvagenti sulla barca di Nonno Cane devono tutti indossare i giubbotti salvagente quel gran filibustiere d'un barba bianca dovrebbe essere qui a momenti una bella tazza di tè per Nonno Pig prego oh molte grazie Nonna Pig finalmente siamo pronti ciur maglia signor barba bianca io dovrei andare urgentemente in bagno posso? anch'io 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 ma si può sapere cosa stanno aspettando c'è anche il telefono Peppa quello è il telefono delle emergenze si deve usare soltanto quando c'è un incendio ah ah al fuoco al fuoco qui è la casarma dei pompieri dov'è l'incendio? dov'è l'incendio? posso parlare con Mamma Pig per favore? oh è Papà Pig Papà Pig non dovresti chiamare questo numero è un telefono che serve solo per le emergenze ma questa è un'emergenza ho provato a cercare il ketchup dappertutto non riesco a trovarlo Papà Pig posso accendere il barbecue adesso? si fai pure signor coniglio fa molta attenzione col barbecue Papà Pig fidati Mamma Pig noi papà sappiamo tutto a proposito dei barbecue ciao forse serve dell'altra carbonella proviamo a soffiarci un po' sopra secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi e adesso non ci resta che aspettare un incendio e quanto tempo dobbiamo aspettare? potrebbe volerci chissà quanto io sto aspettando già da anni quanti incendi ha spento fino ad oggi signora coniglio? eh nessuno neanche un solo incendio ma bisogna tenersi pronti suona il telefono delle emergenze vuoi rispondere tu Peppa? probabilmente di nuovo il tuo papà va bene si pronto? qui la casarma dei pompieri ciao Peppa oh papà ancora tu? sei davvero disobbediente questo telefono serve soltanto per gli incendi vuoi passarmi la signora coniglio? per favore fa la brava Peppa il mio papà ha detto che vuole parlare con lei pronto papà Pig? questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... incendio! al fuoco! oh no! il barbecue di papà Pig è andato a fuoco al fuoco! al fuoco! mamme a salvo raggio! tenetevi forte! iuuu! 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 a questo punto della favola arriva un terrificante drago nonna Pig, mamma Pig e papà Pig aspettano il nonno per cenare a quanto pare la favola della buonanotte non funziona poi tanto io sono il massimo esperto di favole della buonanotte li farò addormentare in un batter d'occhio un drago terrificante! eppa, George, a letto immediatamente! ma nonno Pig non ha ancora finito di raccontare la sua favola, papà? ci penso io a trovare un finale un minuto e sono giù da voi va bene! c'era un puledro, una pianta di fagioli, un castello, una bella principessa un brode cavaliere, una cuoca, un mago e un terrificante drago e un simpatico re molto affamato e così fecero una bella cena e vissero tutti felici e contenti fine della storia e poi fecero una grande festa e invitarono tutti i loro amici scusate, credo che Succi sia bisogno di me papà P! stanno proprio per addormentarsi grazie ma adesso ci penso io ma prima devi finire di raccontarci la favola va bene, ma facciamo in fretta dove eravate arrivati? c'era una volta in un'epoca lontana tanto, tanto tempo fa mamma Pig è nella stanza dei piccoli da tanto tempo mi sembra di sentir russare sopra meno male Peppa e Giorgio finalmente dormono e vissero tutti felici e contenti fine della favola buonanotte, mammina buonjour buonjour, signor Asino per dindirindina questo enorme baule è tutto per Delfin sì, Delfin si è portata qualche cosetta per questo soggiorno cose che qui voi non avete formaggio, pane, pomodori e dell'acqua Au revoir, Delfin tornerà a riprenderti domani sera dove metto il bagaglio di Delfin? in camera mia in cima alle scale il punto più alto della casa quanto pesa serve per una notte sola oh sì è proprio per questa ragione che ho portato un bagaglio così piccolo allora, Delfin è qui per esercitarsi nella nostra lingua quindi noi la dobbiamo aiutare certo, mammina prima di tutto mi devo scusare io non parlo molto bene la vostra lingua non mi sembra che parli poi così male lei è molto gentile, monsieur Pig ma posso farle solamente una piccola domanda riguardo all'italiano? ma è naturale chiedi pure io sono un esperto ti ascolto, Delfin la forma passiva dei vostri verbi richiede sempre l'utilizzo dell'ausiliare? oppure facoltativo? si è fatto terribilmente tardi dobbiamo preparare il letto per Delfin mammina, mammina Delfin può dormire nel mio stesso letto ci mettiamo una da un verso e una dall'altro ottima idea, Peppa Peppa e Delfin dormiranno insieme nello stesso letto ora piccole, cercate di dormire vi aspetta una giornata impegnativa perché domani Delfin verrà nel tuo asilo bellissimo dorme bien dorme bien in francese vuol dire dormite bene io non ho per niente sonno allora ti canto una canzoncina per farti addormentare? si frere Jacques, frere Jacques, dorme voi papà neanche saprà che si era sporcata di fango cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare molto bravo George mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo la lavatrice si riempie di acqua calda saponata splash, splash, splash splash, splash, splash la lavatrice fa tremare tutta la cucina oh, Peppa dov'è il tuo vestito? è lì dentro, si sta lavando cosa? oh, no guarda, mammina ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito è vero, Peppa ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto oh, cielo il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio papà Pig è tornato dal lavoro buon pomeriggio a tutti ciao, papino papà Pig abbiamo un piccolo problema dimmelo dopo, mamma Pig adesso mi devo preparare per la partita dov'è la mia maglietta da calcio? eccola non essere sciocchina, Peppa questo è uno dei vestiti della mamma è rosa non è così, papà questa è la tua maglietta da calcio si era un po' sporcata di fango così l'abbiamo lavata ma purtroppo gli altri panni hanno stinto scusa tanto, papino ma non posso indossare una maglietta da calcio rosa e perché no, papà? il rosa è un colore molto carino, sai? salve salve a voi giornata perfetta per navigare lo farei anch'io ma la mia barca serve una ripulita io proprio non capisco perché affannarsi a pulire quel ferro vecchio anzi, mi meraviglio che continui a stare a galla questo ferro vecchio resterà a galla anche molto tempo dopo che la tua scatola di latte avrà raggiunto il fondo del fiume nonno cane è il migliore amico di nonno pig avanti a tutto vapore ciao ciao allora, io sono il capitano di questa nave e quando il vostro capitano vi ordina di fare una cosa voi dovete obbedire sì, signor capitano sì, signor capitano polli pappagallo ripete tutto quello che viene detto George, issa la bandiera George, issa la bandiera Peppa, suona la campana Peppa, suona la campana nonnino, posso fare io il capitano? ti prego eh, va bene ma dato che sei il capitano devi indossare questo cappello adesso è Peppa il capitano e tutti devono obbedire ai suoi ordini suona la campana gira quel timone sì, signor capitano Peppa e ora saltate su e giù il capitano Peppa è un po' agitato forse è meglio che torni ad essere io il capitano non vorrei rischiare di andare a sbattere da qualche parte governare una barca può essere molto pericoloso fortunatamente io sono un ottimo capitano oh no la barca di nonno pig è finita contro un isolotto nonno, che disastro, ci siamo incagliati adesso telefono a nonna pig lei ci verrà in aiuto oh oh nonno pig ha fatto cadere il telefono in acqua patato patata il lato positivo delle giornate piovose è che possiamo guardare degli istruttivi programmi in tv patato patata patato patata mammina George e Richard hanno trasformato la nostra camera nella terra dei dinosauri e la terra dei dinosauri purtroppo è rumorosissima George ha fatto venire il suo amico del cuore invece io non ho nessuno con cui giocare potresti chiedere a Susy Pecora di venire da te Susy Pecora è la migliore amica di Peppa davvero Susy Pecora può venire a casa nostra? proviamo a chiamarla pronto? sono Susy Pecora chi è? ciao Susy sono Peppa potresti venire a casa mia adesso? certo Peppa posso mettermi il camice da infermiera? sì ma vieni più in fretta che puoi ciao ciao Susy torno a prenderti aspetta Susy più tardi piccola mia George Richard è arrivata l'infermiera Susy e l'infermiera Susy ordina questa non è la terra dei dinosauri questo d'ora in poi è un ospedale e un ospedale deve essere sempre pulito e ordinato la stanza adesso non è più la terra dei dinosauri è diventata un ospedale io sono la dottoressa caporeparto questo dinosauro sembra malato sono d'accordo dottoressa ha un aspetto terribile il suo colore è verde pallido lo devo mettere subito a letto e anche questo dinosauro deve essere malato perché ha un colore viola pallido è vero dottoressa deve andare subito a letto anche lui dinosauro dovete fare silenzio siate in un ospedale non ti preoccupare Peppa sono esperto nel leggere le cartine questo sì che è strano ci siamo persi? proprio così arriva nonno cane con il nipotino Danny ciao Peppa oh ciao Danny ci siamo persi persi? vi si è rotto il navigatore? come il navigatore? certo quello che lei sta guidando è un camper 320 è un modello col navigatore di serie benvenuti nella macchina del futuro ah ecco a che cosa serviva quel pulsante dove volete andare oggi? ma papino il camper sta parlando ingegnoso vero? la voce del computer aiuta a trovare la strada ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? le lo indichi tu ehm buongiorno signora voce del camper buongiorno noi stiamo andando in vacanza ci può dire la strada? procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo grazie per l'aiuto nonno cane non c'è di che divertitevi in vacanza ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo pericolo pericolo il livello dell'olio è basso cos'è l'olio? l'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà e se il livello è basso vuol dire che sta per finire? no questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo l'olio è terminato oh cielo per fortuna ho una lattina di olio di riserva sei stato previdente papà adesso basterà mettere dell'olio all'interno del motore poi vedrai oh che succede? qui dentro non c'è niente il motore è sparito arriva mamma pecora con la figlia Susi ciao ciao Susi siamo in campagna penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura ottima idea mamma pig guardiamoci un bel programma sulla natura una delle meraviglie della natura gli uccelli com'è affascinante zitto vuoi stare zitto uccellino? non riusciamo a sentire la televisione no papà pig è una cosa assolutamente sbagliata non si può campeggiare e guardare la televisione questo si può fare a casa ehm sì hai ragione tu mamma pig ci sono tanti posti divertenti da visitare questo è il mondo degli alberi cos'è il mondo degli alberi? il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi non mi sembra tanto divertente oppure c'è la città delle patate che cos'è la città delle patate? si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate sembra molto interessante oh c'è il paese delle anatre cos'è il paese delle anatre? è un fiume immenso tutto pieno di anatre paese delle anatre andiamo al paese delle anatre peppa e george adorano le anatre come si fa ad andare al paese delle anatre? sarà il camper a guidarci dove volete andare oggi? paese delle anatre per favore procedere sempre dritto lungo la strada andiamo dalle anatre con un camper giallo benvenuti nel paese delle anatre buongiorno quanti biglietti prego? due adulti e due piccolini divertitevi con le anatre ma dove sono le anatre? forse sono andate in vacanza forza, cominciamo a preparare il picnic le anatre si fanno sempre vedere quando... quando noi facciamo i picnic peppa e george adorano i picnic guardate, arrivano le anatre ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura il nonno e la nonna ne saranno felici perché a nonno pig e a nonna pig piace mangiare le bucce delle verdure? no, Peppa sono per il giardino del nonno aiutano le piante a crescere bene potremmo portargliele subito dopo pranzo oh, che bello! mamma pig, peppa e george portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna pig siamo arrivati! evviva! nonno pig! nonno pig! abbiamo portato un regalo specialissimo per te ah, ma quante bucce di verdura! che cosa fantastica! al mio giardino piaceranno moltissimo perché il tuo giardino? mangia le verdure, nonno! niente affatto, Peppa tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico oh, e che cos'è? adesso ti faccio vedere eccolo qui! ma questa è una scatola di legno esatto, Peppa ma questa è una scatola di legno molto intelligente metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico e come fa a farlo? è una scatola magica per caso? no, cara Peppa ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro dove? sono qui dentro guarda! oh, ci sono tanti vermi! vami, vami! i vermi trasformano frutta e verdura in concime organico nonno Pig possiamo andare a cercare altri vermi per la tua scatola di concime organico? mi sembra un'ottima idea vieni, George mettiamoci a cercare altri vermi nella pozzanghera ne ho trovato uno vami, vami! è un po' troppo alto, George sei proprio sicuro di voler scendere da lassù? costa un euro, prego quanto? un euro? ma è un'offerta per una buona causa oh no! è un po' troppo alto per George non ti preoccupare, George arrivo, ti raggiungo subito un altro euro, per favore a George la paura è passata oh, quanto è alto ho le vertigini quasi quasi scendo dalle scale ma non può le scale sono affollate si deve scendere dallo scivolo, Papa Pig oh, ok coraggio, venite a divertirvi fate centro e vincerete un gigantesco peluche guardate! tu sei brava a fare centro, vero? ma non ci serve un altro peluche gigante, Peppa non si preoccupi, non vincerà, Mama Pig tutte le donne hanno una pessima mira può ripetere, non ho sentito in questo gioco ci vuole abilità e quanto costa tirare una freccia? un euro mamma Pig ha fatto centro ma è incredibile ecco il vostro gigantesco peluche evviva! voglio un peluche gigante come quello, mammina ma sono troppo grossi no, non è vero Papa Pig e George sono sulla ruota panoramica tenetevi forte! va veramente molto in alto sono contento che sia finita un euro da diritto a cinque giri completi cinque giri completi? oh no! oh no! signora pecora, lei lavora o gioca invece? oggi dovrò lavorare moltissimo, Peppa devo andare in palestra e che cosa si fa in palestra? si corre, si saltella, si fanno flessioni ma mamma! questo non è lavorare questo è giocare! Peppa e Susi sono arrivati all'asilo ciao a tutti! ciao, ciao Peppa! ciao, ciao Susi! silenzio! attenzione! oggi giocheremo al negozio! chi di voi vuole fare il venditore? io! Peppa e Susi saranno i venditori mentre tutti gli altri potranno fare i clienti Peppa e Susi gestiranno un finto negozio Peppa, che cosa dobbiamo fare? io starò alla cassa e tu Susi ti potresti occupare degli scaffali va bene! Danny Cane è il primo cliente buongiorno, come va venditore? buongiorno signor Cane posso avere un po' di biscotti per favore? Susi, ci sono rimasti ancora dei biscotti? no! però abbiamo un telefono giocattolo e quanto costa questo telefono? è molto bello, costa 100 euro signor Cane molte grazie il prossimo, prego? beh! buongiorno venditore potrei avere un filone di pane, per favore? no! però abbiamo una casa giocattolo gliela metto in un sacchetto, signore? sì, grazie il costo della casa è di un euro, prego oh, mi dispiace, non ho portato i soldi può pagare la prossima volta che viene oggi picchia, è proprio un lavoro duro eh, già! buongiorno venditore che cosa posso comprare con mille milioni di euro, per favore? Susi, che cosa abbiamo in negozio che costa mille milioni di euro? guardate che meravigliosa giornata di sole! oh no, è cominciato a piovere ma dov'è la fantastica vista, papà? eh, eccola una fantastica vista la signora Coniglio con il carretto dei gelati salve, signora Coniglio salve, papà Pig quattro gelati, per favore di quale gusto li desidera? menta, arancia, fragola e mirtillo molte grazie, signora ecco a lei guardate che cosa ho qui i gelati! e sono dei nostri colori preferiti proprio così il verde è per me l'arancione è per me la fragola rossa è per me e quello di George è... buuuu! gnom gnom che buono! guardate, è ricomparso il sole e guardate cos'altro è comparso l'arcobaleno! Peppa e George adorano l'arcobaleno l'arcobaleno compare soltanto quando ci sono la pioggia e il sole nello stesso momento avete visto? ci sono tutti i nostri colori preferiti è vero! c'è il rosso, l'arancione, il verde e il blu e sapete che cosa si trova alla fine dell'arcobaleno? no! si trova un tesoro possiamo andare lì e trovare il tesoro anche noi! d'accordo! sembra che la fine dell'arcobaleno si trovi in cima all'altra collina andiamoci! oggi piove il sole c'è l'arcobaleno è qui per me arcobaleno rosso, arancio, verde e giallo e per George il blu arcobaleno ci sorride di lassù eccoci qua! io ho tanta tosse il dottor orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato ci ha dato una medicina cattivissima madame gazzella ora può cantare quella canzone naturalmente Peppa la bambola di polli è mala oh no! tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro sono il dottor orso Bruno chi parla? io sono Peppa Pig tutti i grandi si sono ammalati non ti preoccupare sto arrivando a Peppa buongiorno a tutti abbiamo preso la tosse da Pedro molto bene mettetevi in fila e aprite la bocca so di crema pasticcera e calzini sporchi grazie per essere venuto qui a curarci dottor orso Bruno chi è che viene a curarla quando è ammalato lei? nessuno viene a curarmi io non mi ammalo mai oh no! il dottor orso Bruno ha preso la tosse da Pedro non vi preoccupate arrivederci arrivederci! povero dottor orso Bruno è malato e nessuno va a casa sua a curarlo oh! e ora che può essere? salve! siamo venuti a curarla dottore qui c'è della frutta ecco qui qualche cuscino e qui c'è la sua medicina apra sa di yogurt? alla marmellata gusto crema pasticcera e calzini ora le cantiamo una canzone grazie a tutti! Grazie a tutti.